Ragazzi mi raccomando guardate tutto il video e andate a votare sotto nel link in descrizione che attaccante comprare per il nostro Newcastle. Ci sono tre opzioni, Dybala, finirei tutto il budget ragazzi, quindi non potrei più fare calcio a mercato. Milik e Baciuai invece mi lasciano un po' di denaro, un po' di soldi per continuare il calcio a mercato. Quindi fatemi sapere qual è la vostra preferenza. Salve a tutti ragazzi sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, siamo tornati qui con la carriera del Newcastle, buona domenica ragazzi. Vi ricordo innanzitutto di seguirmi su social network, pagina facebook e instagram, ho fatto anche il canale telegram, chiocciola, menzo con la z, tutto attaccato, anche in descrizione ci sarà scritto se non mi trovate. Cercatemi su telegram ragazzi perché ci saranno comunque delle novità anche lì sopra, vi dirò se cambiano gli orari dei video, se ci saranno dei ritardi eccetera. Quindi seguitemi su telegram perché è veramente molto utile, inoltre pagina facebook e instagram signore. Martedì scorso è uscito il terzo episodio della carriera giocatore, quindi non perdetevela. E giovedì è uscito anche un episodio della carriera allenatore con il Newcastle, quindi se ve lo siete persi andatelo a recuperare. Vi avevo chiesto qualche consiglio per il calcio a mercato ragazzi, mi avete dato tantissimi consigli che adesso andremo a vedere. Vi ricordo ragazzi di seguire su instagram calciomercatoofficial-basso, è una pagina di instagram che fa post sul calcio, sul calciomercato ed è veramente veramente molto divertente. Ringrazio tantissimo i creatori della pagina che comunque mi sostengono sempre in ogni video, mi ringraziano di salutarli, mi fa veramente veramente felice questa collaborazione. Vi voglio bene, passate dalla loro pagina, link in descrizione. Comunque dicevamo ragazzi, calciomercato, qualche partita, andiamo a vedere un po' chi mi avete consigliato. Ho già fatto qualche offerta, mi volevo spiegare un attimo la situazione. Allora per quanto riguarda il portiere, la Font, 16 anni, 70 di overall e Donna Rumma. Ci sarebbe anche Alisson da prendere in scadenza di contratto. Però per quanto riguarda la difesa centrale, c'è Andrea Barzagli che si potrebbe comprare per la scadenza del contratto. Andrea Barzagli lo prendo solamente se riesco a vendere Taylor. Mi avete consigliato tantissimi San Giusto ragazzi, tantissimi. In questo caso ho chiesto informazioni, cercherò di comprarlo al posto di La Shell che non mi sta piacendo molto sinceramente. Passando ai terzini sinistri, mi avete consigliato Kolasinac che conosco già, dello Schalke. Che probabilmente costerà una decina di milioni. E poi ci sarebbe anche Erkin che si può contattare tranquillamente per ingaggiare la scadenza del contratto. Quindi in estate potremmo avere un terzino sinistro di riserva. Centro capisti difensivi abbiamo Saul Niggas, Jace e Krikoviak da poter utilizzare. Direi che passiamo direttamente agli attaccanti ragazzi. Perché mi avete fatto offerte per tantissimi. Mi avete detto di vendere Mitrovic. Quindi per il momento ho fatto offerte per Dybala, Vieto, Ben Yedder, Batshuayi, Jamie Vardy e anche Arcadius Milik, Maui Riccardi, Alvaro Morata e Pierre-Emerick Obameyang. Romero Lukaku e Obameyang probabilmente costeranno troppo. E attenzione ragazzi che metto in vendita anche Townsend. Perché metto in vendita Townsend? Ah non posso farlo, è vero. Me l'ho dimenticato. Townsend volevo metterlo in vendita perché così facevo rientrare dal prestito Toven. Che è un 22 da 77 di Overall, così potevo gestirmelo io. Tornerà anche Cabella. Quindi con Cabella e Toven saremo veramente al gran completo. Il discorso Dumbia ragazzi non mi sta piacendo molto sinceramente. Potrei rescindere il suo contratto per 1.800.000 però per il momento voglio lasciarlo lì. Attenzione ragazzi perché la dirigenza mi ha dato 20 milioni per il mercato. Mi ha dato praticamente 20 milioni e questo è clamoroso. Questo è veramente clamoroso. Ragazzi direi che ci possiamo andare tranquillamente a giocare questa partita contro il Leeds di FA Cup. Quest'oggi il San James Park ospita il primo turno per noi di FA Cup. Ancora non l'avevamo giocata. Sfida contro il Leeds United. Sempre su Pesso signori, forse Newcastle. Dumbia per Wijnaldum. Dentro per Perez. Ancora Wijnaldum. Gira intorno all'area Wijnaldum. C'è Dumbia. Il tiro a giro di Dumbia. Stojanov. Attenzione a Perez. Steccatissimo. Steccatissimo da Bamba. Brutto fallo da dietro qui al limite dell'aria. Batterà Perez. Va Perez. Signori. Aio Perez. Abbiamo trovato chi può battere le punizioni. Punizione perfetta. Veramente perfetta. Gran gol di Perez. Niente da fare per il portiere. In realtà non mi sembrava molto angolata. Le vediamo da qua. Ha deviata. In realtà era parabilissima. Ha deviata dalla barriera comunque. 1-0. Non è importante. Perez. Prova a chiudere lo Shelby. Dietro per Beardkut. Botaka. Che gol. Che gol di Botaka. Bagatissimo. C'è come ha fatto. Qui si. Tiro. Sì. Tiro proprio così come viene. Pareggio dell'Izza. 45esimo. Vediamo se recupera il pallone Wijnaldum. Sì. Lo fa. Rientra sul mancino. Ancora Wijnaldum. Spacca tutto. Mamma mia che tiro del merda. C'è dall'altro lato Gelson Martins. Può andare Gelson Martins. Il tiro di Gelson Martins. Stojanov. Finisce qui. La partita. Ok c'è il replay. Allora. L'Ajax è interessata a Mitrovic. Però chiede almeno altri 8 milioni. Io in realtà. Te ne potrei offrire 3. Più Mitrovic per Milik. Per vieto loro non sono interessati a Mitrovic. Però se ci aggiungo qualche milioncino. Mentre andiamo dall'Aventus. Mitrovic più. Aspetta un attimo. Andiamo con calma. 12. Saremmo a 22 milioni più o meno così. Ok ragazzi. Sale sia Perez che Gelson Martins. Si avvicinano al 68 onuri. Però aspetta. Perez sale al 76. Gelson Martins sale al 78. Mentre il Marsiglia è interessata a Mitrovic. Ma vorrebbe molto di più per Batshuayi. Quindi io andrei sui 20 milioni. Ma anche 9. 9 più Mitrovic. Anche Icardi. Sono interessati a Mitrovic. Ma si aspettano 36 milioni. Quindi io se faccio 12 più Mitrovic per Icardi. Allora. Avevo fatto freddo per Krikoviak. Jace e Saul Niggest. Non sono interessati a T.O.T. Purtroppo. Però io posso comunque alzare. La cifretta. 8 milioni più T.O.T. T.O.T. ha valutato 6 milioni. Non sarebbe male Jace. E anche Saul Niggest. Ci dobbiamo aggiungere qualche milione. 5 milioni. Ok ragazzi. Per il momento siamo a posto con il mercato. Ci andiamo a giocare la partita. Contro l'Arsenal. E ritorniamo con la formazione titolare. Arsenal Newcastle all'Emirates Stadium. Tutto esaurito per questa sfida. Non al vertice. Ma nelle zone calde della classifica. Comunque zona Europa League. Zona Champions League. Una partita importante ragazzi. Doviamo cercare di mantenere il passo. Anche perché nello scorso episodio abbiamo perso punti. Nelle ultime due partite contro il West Bromwich e il Tottenham. Un pareggio e una sconfitta purtroppo. Questa è la formazione dell'Arsenal. La conosciamo comunque. Molto veloce. E molto tecnica ovviamente. Sempre sul pezzo e forza Newcastle. Attenzione a Correa. Correa. Davanti a Cech. Anche Correa. Newcastle passa in vantaggio. Errore difensivo qua dell'Arsenal. Rivediamo il replay. Passaggio corto. Correa inizia il pressing. Pressing alto su Gabren. Gli ruba il pallone. E poi la piazza facile facile. Newcastle passa in vantaggio. Molto bene. Avevo detto che Correa così da attaccante rendeva molto di più. Casorla il tiro Krull. Eravamo riusciti a coprire benissimo tutti gli spazi. Casorla però in un fastoletto si è girato. Ha tirato un tiro veramente pericoloso. Qui Krull attento. Attenzione. Gran giocata dell'Arsenal qua. Sono fenomenali ragazzi. Non so come contenerli. Gol di Sanchez. Al 44esimo. Puttana troia. Guardate qui. Tutto di prima. Abbiamo lasciato un buco enorme. Miasga non è stato attaccato a Sanchez. Perché stava marcando Ramsey. Semplicemente. Uno pari. Pareggio che ci sta. Sono superiori a noi. Sono superiori a noi. Meier. Bella palla per Gamero. Il tiro di Gamero. Kevin Gamero. Newcastle ripassa in vantaggio. Gran gol. Gran gol veramente. E vediamo qua. Palla spettacolare di Meier. Fantastico. Fantastico. Poi Gamero se la mette sul destro. E dal di lì è infallibile. Sanchez la mette in mezzo. Attenzione. Al colpo destro di Coquelin. Yanmat lancia Correa. Siamo in contropiede ragazzi. Siamo in contropiede perché Larsen è tutta avanti. Correa. Aspetta l'arrivo di Meier. Correa se ne va. Meier. Centrale per check. Forza Miasga. Fenomeno. Fenomeno vero Miasga. Yanmat un po' meno. Koscielny la mette in mezzo. Non arriva nessuno Krull. Attenzione a Monreal che entra in area. Chiuso da Miasga. Sascha il pallone là. Dove più lontano non può andare. È un assedio dell'Arsenal. Un assedio. Via. Sì. Sai ve. Bravo. Bravo. Sega tutto quello che trovi. Bravi. Bravi. Va bene. Va bene. Dobbiamo portarci a casa questi tre punti. Cascasse il mio pisello. Vai partire a parati. Sì. Andiamo. Andiamo. Che vittoria all'Emirates ragazzi. Ma che cuore questa squadra. Che cuore. Anche se una squadra è superiore tecnicamente. E riusciamo a portarci a casa questa vittoria. Fantastico. Difesa blindata. Non so perché Ambemba ha preso 6.1. Che faceva interventi a destra e manca. Comunque mi ero in campo Correa. Devo comprare un attaccante stile Mitrovic. Mi avete consigliato anche Embolo ragazzi. Ma diciamola tutta. Embolo ha veramente rotto le balle. Tutti con sto Embolo. Tutti con sto Embolo. Tutti con sto Embolo. Allora. Allora. L'Ajax. Siamo interessati a Mitrovic ma almeno 8 milioni. Almeno 8 milioni vuole dire. Mitrovic più 6 milioni. Siamo a 16 milioni. Facciamo 6 milioni e 500. I Cardi invece sono interessati a Mitrovic ma vorrebbero almeno 29 milioni. 10 più TOT per Jace. Io accetterei forse nello Schalke 04. Allora. 5 milioni più TOT per Saul Niggas. Lo portiamo avanti tutta la vita ragazzi. Giocatore per il turnover. Così non mi scassa le palle. Però in realtà Saul Niggas fa il titolare all'Atletico Madrid. E sinceramente può fare tranquillamente il titolare anche da noi. Mentre offerta troppo bassa anche per Bacuay. Io sinceramente a Milik preferirei Bacuay. Quindi. Alziamo l'offertina qua. Senza paura. Andiamo anche a... 13 milioni più Mitrovic. Allora ragazzi. Ho visto che... Si sono interessati a San Just quelli del Barcellona. Quindi io farei la Schalke più 1 milione e 200 per San Just. Se il Barcellona si è interessato a questo ragazzo c'è qualcosa sotto sinceramente. Per andare a Barzai gli aspettiamo ragazzi perché non ho abbastanza soldi. Vorrei delle risposte da Erkin sinceramente. Se no andiamo da Kolasinac. 22 anni comunque. 6 milioni non sono neanche tantissimi. Quindi gli diamo magari a Idara. Più 2 milioni. Kolasinac è forte comunque. È forte. Ha ampi margini di... Di crescita anche. Offerta per il trasferimento di Team Krul. Che rifiutiamo. Assolutamente non ho già zia di vendere Krul. Offerta per il trasferimento di Correa. Ma... Sinceramente... Non lo voglio vendere. Quindi vetiamo anche ulteriori offerte. 21 milioni più Mitrovic per Dybala. Ok. Il Marsiglia. L'Ajax. Oh mamma mia quante robe che hanno accettato qui. Sia per Baciuai che per Milik. Baciuai. 22 anni. 79. Offriamogli il contrattino. Poi abbiamo Milik. 21 anni. 77. 90 mila. E... Giocatore importante. Il Krikov ya che lo lasciamo stare. E poi c'è Mauro Riccardi. Che sono interessati. Però vogliono di più qui. Più o meno la stessa storia che per Dybala. Faccio fatica. Quindi mi sa che la scelta arriverà tra uno tra Baciuai e Milik. Attenzione. Offerta per il trasferimento di Steven Taylor. Almeno 4 milioni. Ok. E' un accettato per Kolasinac. Non male. Non male. Giocatore per il turnover. Andiamo a giocarci di nuovo questo replay. Penso si dica così. Contro... Il Leeds. Perfetto. Questa sarà la formazione con cui sfideremo il Leeds. Andiamo. Cerchiamo di vincere sta partita ragazzi. Io veramente... Cioè... La scorsa... L'andata diciamo così. Si era messa male con quel gol inventato da... Boiata. Com'è che si chiama? Boccata. Boccata. Vabbè. Comunque. Cerchiamo di vincerla questa. Se no. Mouat. Ancora Boccata. Ma chi è? Ma chi è? Chi? Attenzione. Nuri. Si fa spazio al sinistro. Stojanov. Questo Nuri è forte. Peccato che è solo un po' piccolino fisicamente. Attenzione. Buttacca. Com'è l'andata? Incredibile. Guardate che roba. Qua se l'ha perso Vandal. Io ragazzi però... Il Leeds è fenomenale. Il Leeds è fenomenale. Io non so. Non riesco a passare da nessuna parte. Ma il Dome il tiro! Stojanov! Jelso Mardis! GAMEIRO! 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 Kevin GAMEIRO! Il pareggio. The New Castle. Adesso mi sono rotto i coglioni però eh. Vijnaldum qui tiro. Jelso Martins male male perché lì da diritto va a far gol. Però GAMEIRO nel tapin vincete di sinistro. Il pareggio dopo 5 minuti. GAMEIRO! Entra in aria segato GAMEIRO! Grande Kevin. Segato da Bamba. Che altra volta ha fatto fallo sulla punizione e stavolta ha fallo da rigore. Ha munito Bamba. Ma Kevin! GAMEIRO! GAMEIRO! Doppietta per Kevin GAMEIRO! 1-2 New Castle. L'ho voluto tenere in campo quest'oggi perché me lo sentivo. Me lo sentivo. Grande Kevin. GAMEIRO! Per Seivet la mette in mezzo. Dove c'è Pratt? Il tiro di Pratt e Stojanov. La para. Attenzione all'Itsco. Sto buttacca ancora. Fuori. E finisce qua. Vinciamo. 1-2. Che vittoria. Mamma mia che sofferenza. Allora ragazzi la Juventus ha accettato 21 milioni più Mitrovic. Io se compro Dybala non faccio più mercato praticamente però. C'è ci sta. Ci sta. Però non riesco a comprare un centrocampista difensivo. Quindi Jace non può arrivare sicuramente. Perché mi chiedono troppo. Offerta per Gerson Martins di 14 milioni. Bah io ne chiedo 55. E Baciuai ha accettato ragazzi. Baciuai ha accettato. Se io accetto è rimasto 6 milioni. E posso fare ancora mercato ragazzi così. Posso fare ancora mercato. Aspettiamo un attimo. Ha accettato anche Sanjust. Vediamo se riusciamo ad acquistare anche Sanjust. Ci andiamo a giocare. Questa partita contro il West Ham signori. Aspettiamo fino contro il Chelsea. E poi vi mollo. Vi lascio. San James Park. Newcastle West Ham. Purtroppo non vi ho fatto vedere la classifica ragazzi. Perché siamo un attimo impegnati con il calcio mercato. Ma se ce la fanno vedere qui sarebbe un bene. Purtroppo non ce la fanno vedere la classifica. Dov'è Kevin Camero ragazzi? A riscaldarsi scusate. Dalla bandierina di calcio d'angolo. Cosa sta succedendo Kevin? Dove sei? Cosa fai? Camero. Che palla per Jansson. Jansson. Madonna. Che palla che ha fatto Adrian. Meglio. Palla per Pratt. Ancora Adrian. Camero. Cross per Correa. Ancora Adrian. Ma era fuori gioco. Attenzione a Bianca che la mette in mezzo. Crulesce male. E mi nasga. La palla deve sempre e costantemente andare in calcio d'angolo. Per... Per Meier. Adrian. Mannaggia a Meier che tira del merda. Correa. Meier. Per Seive. Deviata. Non va neanche in calcio d'angolo. Probabilmente finirà qua. È finita. 0-0. Incredibile. 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 Veramente. Guardate. Ok ragazzi. Ha accettato Milik. Ma noi abbiamo anche Batshuayi in attesa. Abbiamo anche Dybala perché deve solamente accettarmi il contratto. Ed è facile. Allora vediamo con la Zinac. 2 milioni eh. Io con la Zinac sinceramente lo prendo. Con la Zinac lo prendo. Ottimo terzino sinistro al posto di Aidara per 2 milioni. Con la Zinac. Ottimo acquisto. Sono contento. Mi raccomando ragazzi. Andate a votare nel link in descrizione dello Stropol. Uno dei tre attacchianti. Abbiamo Paolo Dybala che comprandolo praticamente non avremo più possibilità di fare altro mercato. Quindi non arriverà Sanjust e non arriverà neanche Saul Niggas. Mentre abbiamo anche in attesa Arcadius Milik che ci permetterà di fare altro mercato. E Batshuayi che ci permetterà di fare altro mercato. Quindi ragazzi andate a votare sotto in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi. Mi raccomando lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.